Chi mi guardo stasera su Netflix? Vi starete chiedendo. E beh, ve lo diciamo noi. C'è un film che è uscito da poco su Netflix e che sta facendo chiacchierare tantissimo la maggior parte degli utenti che l'hanno visto. Si intitola A Beautiful Life ed è ambientato in Danimarca, quindi direte, ma come, film danese? Sì, film danese che è in testa, tra l'altro, alla classifica della top 10 dei film più visti su Netflix in questo periodo. Quindi in questo video vi consiglierò questo film, ve ne parlerò senza fare spoiler, anche perché, come sapete, noi consigliamo regolarmente film e serie di V da vedere perché ci mette talmente tanto tempo la sera quando dobbiamo scegliere un film o una serie e non sappiamo cosa vedere e allora ve lo diciamo noi cosa vedere, così andate subito sul sicuro. Tra l'altro noi facciamo anche altri video in cui consigliamo le 5 serie di V se siete appassionati, che ne so, di thriller e sul nostro canale trovate molti video su questi temi e molti consigli su cosa vedere sulle piattaforme in streaming e in televisione. È A Beautiful Life, un film che mi è piaciuto, mi è piaciuto, nel panorama attuale che, regà, non c'è un granché, quindi concedetemi pure di dire che non è un filmone, ma comunque è un film che ti tiene incollato fino all'ultimo minuto ed è un film che emoziona perché l'ho trovato molto sentimentale, il genere è sentimentale, ma l'ho trovato molto emozionante anche perché è una bella storia e tanti si stanno chiedendo ma è una storia vera? C'è qualcosa, c'è una base da cui hanno preso questa storia di questo ragazzo e del protagonista anche perché nei titoli di coda, dopo i titoli di coda, vediamo delle scene post-credit che fanno tutto farebbe pensare che la storia sia una vera storia e in realtà ci sono delle cose da spiegare che vi dirò piano piano. Ma innanzitutto di cosa parla A Beautiful Life? È la storia di un ragazzo che fa il pescatore e che riesce ad avere l'opportunità della sua vita quando una serata, dopo aver finito di lavorare al porto come pescatore, suona la chitarra per dare una mano a un suo amico che voleva diventare cantante e quindi sfondare nel mondo della musica, lui si mette a suonare questa chitarra e il suo amico canta in questo locale ma nessuno li sta ad ascoltare. Nel momento in cui lui si rende conto che il suo amico sta andando male con il canto, con la canzone, interviene e ci mette la voce e tutti si girano estasiati ad ascoltarlo e lo applaudono. Quindi, insomma, lui gli salva il culo al suo amico in una serata che sarebbe potuta finire molto male. Prende la chitarra, se ne va molto burbero, un bel ragazzo, con questa barba, con questi ricci e se ne sta per andare dicendo al suo amico guarda, mi hai fatto fare una figuraccia, basta, io ho chiuso, torno a far pescatore perché tu non sei in grado di cantare e non sfonderai mai con la musica. A un certo punto arrivano tre scagnozzi, vi dico giusto l'incipit così vi inserisco nella storia e senza dirvi nient'altro arrivano tre scagnozzi che volevano dei soldi dal suo amico e quindi dei soldi che non gli aveva restituito e lo minacciano con un coltello, interviene il protagonista che fa pugni con, diciamo, il leader di questi tre e si ritrova in centrale di polizia per una notte. Lì in centrale, insomma, arriva una donna che lo stava ascoltando all'interno del locale e che è rimasta molto colpita dalla voce di questo ragazzo che gli fa una proposta, una proposta che cambierà per sempre la sua vita. Detto ciò, non vi spoilerò nulla di quelle che saranno le scelte del protagonista e di quella che sarà l'avventura del protagonista, ma è un film che senza dubbio è piacevole, leggero al punto giusto, emozionante, anche commovente alla fine, anche perché abbiamo questo finale con tanta musica e sottofondo c'è ovviamente una storia d'amore e il film, possiamo dire, è un drammatico sentimentale, anche se ci saranno molte vicissitudini che metteranno alla prova la vita del protagonista. Viene da chiedersi è una storia vera? È vero che questo ragazzo da pescatore poi si mette a cantare, a suonare, è bravissimo a questa voce? In realtà, no. Quello che vi possiamo confermare è che non è una storia vera. Anzi, il regista ha detto che ha pensato a questo attore che non è un attore, perché qualcosa inerente con la musica c'è. Il protagonista è un cantante, si chiama Christopher, ed è conosciuto, molto conosciuto in Danimarca e in Nord Europa anche perché ha fatto diversi tour internazionali ed è un cantante che si sta imponendo piano piano nel mondo della musica e che è stato preso proprio per recitare la parte di questo pescatore barra cantante. Quindi il regista ha scelto un vero cantante per interpretare una storia che non è la vera storia del cantante Christopher. anzi, lo stesso attore ha confermato in un'intervista che ci sono molte cose diverse della sua vita che non troviamo nel film tipo la presenza dei suoi genitori che l'hanno sempre sostenuto, la famiglia presente nel cantante mentre nel film è un passato tutto da scoprire che poi vedrete all'interno della pellicola. Quindi non è una storia vera ma è stato preso un vero cantante che ha vinto diversi dischi di platino in Patria in Danimarca ma poi questa Danimarca sto rivalutando molto questi film del nord Europa avevamo già parlato di alcune serie tv e film prodotte in nord Europa che stanno su Netflix e che sono fatte davvero bene ho trovato molto bella la fotografia questi paesaggi queste città io sono un appassionato di nord Europa mi fanno veramente impazzire e ho apprezzato la recitazione dei protagonisti tutti bravissimi e una cosa che non dico quasi mai che magari si nota poco ma il doppiaggio italiano mi è piaciuto tanto bravi bravi doppiatori italiani bravo il lavoro ottimo il lavoro che hanno fatto insomma dietro alle voci di ognuno dei protagonisti tra l'altro la voce del suo amico è dello stesso doppiatore di Andrew Garfield che salutiamo e vi ricordo che noi ogni settimana ormai su Chuck e Azione stiamo intervistando doppiatori e doppiatrici in live in diretta il lunedì sera per farci raccontare un po' i segreti di questa professione di cui non si parla mai abbastanza dico così perché c'erano altre serie tipo Manifest lasciatemelo dire che ha un doppiaggio che lascia un po' il tempo che trova ma probabilmente è anche il modo in cui fanno lavorare questi doppiatori ci hanno raccontato che i tempi sono molto stretti e spesso non c'è il tempo materiale di mettere tutto e di dedicarsi al massimo al doppiaggio di una serie e quindi poi il risultato purtroppo è di un livello mediocre e non so se anche voi avete notato questa cosa con Manifest che è un'altra serie che trovate su Netflix interessante ma torniamo a A Beautiful Life quindi non c'è una vera storia dietro questo film è un film fatto davvero bene e lui ha una voce veramente straordinaria è bravissimo è l'ultima canzone insomma vi lascio vedere il film se l'avete visto però scrivetemelo quanto quanto va appassionato quanto va piaciuta l'ultima canzone che è veramente emozionante ma ricordato qualcuno potrebbe dire non è una cosa originale è un qualcosa di già visto sicuramente sicuramente il format è molto semplice ragazzo che è da pescatore quindi da una vita diciamo di sacrifici da un lavoro umile di sacrifici riesce ad avere la svolta della sua vita e mi ha ricordato A Star is Born che è il primo che mi viene in mente forse quello che abbiamo visto più di recente su questo filone però posso dire che tante volte è più la semplicità forse di cui abbiamo bisogno ed è quella che rimane di più quando finisce il film per poi insomma alzarci dal divano dal letto e dire oh che bello mi ha trasmesso qualcosa mi ha emozionato quindi nonostante sia un qualcosa di già visto non originale il finale tutti possono capire come va a finire il film non ci sono particolari sorprese o particolari colpi di scena anche se insomma non vi nego che mi ha commosso che mi ha commosso soprattutto la scena finale quindi vi consiglio di guardarlo e poi fatemi sapere se vi è piaciuto nei commenti anche perché trovare un film che ti tenga incollato dall'inizio alla fine al televisore o al tablet o insomma o al computer è sempre più difficile lo trovate su Netflix dura solo un'ora e quaranta se non sbaglio ed è primo dicevo top 10 della classifica dei film più visti di Netflix è uscito veramente da poco lo sceneggiatore barra scrittore che ha rivelato di aver costruito questa storia sul suo passato e poi di averci messo come dicevo l'attore che veramente fa il cantante e per non aver mai recitato ho apprezzato tantissimo anche la sua performance interpretativa vi consiglio di iscrivervi al nostro canale YouTube check e azione attivate la campanellina e mettete mi piace a questo video è l'unico modo per sostenerci vi ringraziamo per tutto l'affetto che ci date tutte le settimane mettete mi piace su Facebook e siamo anche su Instagram con tutte le news gli approfondimenti e le curiosità che riguardano il mondo del cinema e delle serie tv al prossimo video